Le stelle di Natale, torna questa iniziativa promossa dall'Associazione Federico Luzzi Ollus a favore appunto dei malati di leucemia. A questo punto è un impegno che si rinnova, che inizia domani all'Esselunga. Sì, allora domani l'anteprima, l'Esselunga con un cuore enorme, non potendo concederci il dicembre, ci fa iniziare domani. Quindi tutto sabato al supermercato Esselunga ci sarà la novità nostra, che è la nuovissima stella di Federico. Perché io ricordo che il 6-7-8 in tutta Italia, le sezioni dell'Associazione Italiana Leucemie, vendono in piazza le stelle di Natale. Ma la sezione di Arezzo ha una marcia in più, perché abbiamo questa stellina fatta da 1 a R in bagnore a Gento. E abbiamo anche una cosa nostra, personale, che è questo ottimo parmigiano reggiano, con la solita offerta di 12 euro, si può scegliere fra questi tre oggetti. Un'esperienza questa che ha avuto successo nella passata stagione e che quest'anno si ripeterà. Vogliamo ricordare allora gli appuntamenti per chi volesse partecipare a questa iniziativa di solidarietà. Domani, sabato 23 novembre, al supermercato Esselunga, tutto il giorno, la nuova stella di Federico 1 a R in bagno a ore a Gento. E il 6-7-8 in tutte le piazze della provincia, quindi anche fuori Arezzo. Le stelline, le piante e il formaggio, per ricordare Federico Luzzi e aiutare i malati di leucemia.